Negli Stati Uniti comincia il processo di impeachment contro Donald Trump. Ci aggiona in diretta il corrispondente Claudio Pagliar. Claudio, a te. Sì, parola all'accusa già da un'ora, non c'è bisogno di grandi discorsi, dicono i rappresentanti democratici dell'accusa e mostrano immediatamente le immagini dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Lì vedete i manager dell'accusa, insurrezione, incitamento all'insurrezione. Di questo deve rispondere il Presidente Trump. Secondo la difesa invece l'ex Presidente Trump non è responsabile diretto di ciò che è accaduto il 6 gennaio. Il voto arriverà solo tra qualche giorno, probabile l'assoluzione, ma comunque è un processo storico, il secondo che avviene per un ex inquilino della Casa Bianca. Non era mai accaduto prima. Linea Roma. Tra guerra e conflitto.